Massimo Giannini, con lui vorrei fare il passo sulla politica, perché la cosa che ti chiedo Massimo è secondo te è un suicidio politico? Adesso mi è appena arrivata in mano, non so se l'hai vista una news di Matteo Renzi che naturalmente dice cose molto simili, anche quelle che ha detto la Boschi, ma alla fine dice si pario e oggi insomma tanti osservatori dicono che in qualche modo è la fine di una parabola, che detti sei fatto? Non lo so se a una fine di una parabola, indubbiamente segna uno strappo che può avere conseguenze profonde, secondo me, ma non soltanto nel rapporto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma è proprio all'interno del Movimento 5 Stelle dei suoi presunti, a questo punto dico presunti valori che questa uscita rimescola le carte. Lo dico perché a me, al di là del fatto che abbia destato un'indignazione profonda il video che abbiamo visto e che peraltro non è che oggi viene in qualche modo ridimensionato, non voglio dire dallo stesso Grillo, ma anche dal suo entourage, dai suoi familiari, oggi interviene la moglie di Grillo e riconferma quello che Grillo ha detto, quindi siamo dentro un meccanismo nel quale non c'è nessun ripensamento e nessuna riflessione rispetto ai valori dei quali abbiamo parlato fino adesso. Lo scriviamo oggi nell'articolo uscito sul nostro giornale per la firma di Ilario Lombardo, che è lo stesso figlio di Grillo su Instagram, ieri è tornato alla carica postando il suo hashtag FreeSiruts, quindi è una campagna familiare, io ripeto mi rendo conto del dolore dei familiari, ma al di là di questo, ne abbiamo parlato, avete detto tutte cose giuste, lo scandalo è infinito, però si aggrava per un elemento, e qui torniamo al tema della politica, e cioè la reazione che questa uscita ha determinato, sia nel movimento, ma non solo nel movimento, perché io ho detto, e oggi l'abbiamo scritto anche questo sul nostro giornale per la firma di Michela Marzano, che mi è sembrato ancora più grave per alcuni versi, o tanto grave quanto il balbettio imbarazzato delle donne del Movimento 5 Stelle. Io mi sarei aspettato una sollevazione, una sollevazione, perché qui stiamo parlando dei valori e dei principi fondamentali che tengono assieme una comunità politica, e invece questa sollevazione non c'è stata, in qualche caso, ripeto, c'è stato l'imbarazzato atteggiamento di chi vuole capire il dolore di un padre, tutti lo capiamo il dolore di un padre, ma qui c'è molto di più, e chi fa politica non può non vederlo, che si tratti di donne e che si tratti di uomini, e aggiungo in questo purtroppo un po' anche il PD, perché adesso ci governano insieme e quindi io non mi aspetto una frase pronunciata a mezza bocca dal segretario, io voglio una presa di posizione netta, nettissima, inequivoca e pubblica da parte dei partiti su questo, che siano alleati o no, invece vedo che purtroppo c'è ambiguità, e questo mi indigna ancora di più. No, volevo solo chiusare quello che hai detto, perché appunto il PD è eletto, ha detto parole inaccettabili, in realtà l'uscita è più forte. Sì, ma dove le ha dette, scusami, le ha dette al giornale di Maurizio, io sono contento per lui, ma non c'è stata una presa di posizione pubblica, chiaro, che invece fa tutta la differenza del mondo. Allora, poi c'è il tema delle donne.